Buona domenica per oggi 23 luglio, su Notizie non clic vi do il benvenuto, io sono Loredana per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato fino adesso e che andremo ancora a pubblicarne nel corso della giornata. Festival delle connessioni umane, evento a Milano, Biden riceve la Miloni, giovedì prossimo in agenda l'Ucraina e la Cina, i prezzi dall'insalata di riso allo sprizze e ancora caro estate, Valditara, scuola aperte d'estate per aiutare le famiglie, la fondazione Antonio Dallinugare ospiterà durante il festival Bolzano Danza, Zelensky, Kiev per tornare all'estero avanza sul campo di battaglia la controffensiva che potrebbe accelerare. Ambiente tornano quegli allarmi inascoltati negli ultimi tre anni e per lo sport in Italia si prepara il primo evento per i nazioni internazionali del frisbee. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazioni, grazie per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima Rassegna Loredana.